3.000 piccoli sono stati contattati per avere una rifineria non sono stati spinoffi per avere un negozio per donare servizio alla rifineria ma non è garantizzato ma non è avvisato il governo che sta mandando con la banca centrale ma non è avvisato lo seguente per informazioni non è che ci sono non è che ci sono non ho notificato ma sono stati con un'allume non ho bisogno di un governo non ho bisogno di un'acqua ma non ho bisogno di un gruppo era un'alto che si è finito siamo stati a chiamato buonasera buonasera non è vero con il anche a cui si è un sistema diplomatique non ho bisogno Non c'è un'unica cosa che mi dà, un'unica cosa che mi dà, un'unica cosa che mi dà, 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 che il governo sia notificato. Come dire? Il governo sia notificato? Ah, si è notificato, quando si mi dà? Tutto 2. Il notificato il governo, e poi ci sono più informazioni per il notificato il governo. Oh, in altre parole, non c'è problema, come dire, un'unica cosa che mi dà? Come no? Non c'è, non c'è, non c'è. Invece di bene, un'unica cosa che non c'è, non c'è, un'operazione plena di rifineria, c'è un'opportunità di fare l'economia. E non c'è, non c'è un'economia, non c'è un'economia. Quindi c'è un'opportunità di oro a trope, loо, ci allora andiamo a dire che questo compleanno è, ci sono i nostri amati. No, non c'è un'economia. Ci sono i nostri amati, ci sono i nostri amati, ci sono i nostri amati 434 e 6 2009, o troppo 438 e 6 2009, ci sono i nostri amati a disposizione. E si sono i nostri amati, il mio posto è il telefono,